Quando affronterete il mondo, vi porterete appresso il bagaglio di esperienze fatte nella confraternita, che vi indirizzeranno alle scelte milioni. Che cavolo succede? Garat mi ha tradito. Se fai un torto a una teta, lo fai a tutte noi. Quindi si merita una lezione. Si va in scena. Maga, amore, ti senti bello? Rispondimi! Che succede? Ha tipo convulsioni. Che cazzo è combinato? Va a prendere la macchina! È fredda come il ghiaccio! Ma è morta e l'ho ammazzata io, porca puttana! Non preoccuparti, sistemeremo tutto. Trovate delle pietre affilate. Prima cominciamo, prima finiamo. Quanto deve continuare questa pantomima? Garat, te l'hai uccisa! Ma non era già morta! Oh mio Dio! Megan è morta e siamo tutte responsabili. Ma io sono fregata! Possiamo cavarcela. Complimenti, miei cari diplomati. Oddio! Megan è tornata dal regno dei morti e vuole vendicarsi! Non può essere, Megan! Si sta decomponendo in un corso! Prego! Aiutatemi! Non credere di farmi paura, io gestisco un branco di 50 puttanelli! Tuttanelli!